Monsignore, è diventato ormai un appuntamento fisso questo con le scuole? Bene, no, io diciamo a scuola mi sono trovato a casa perché ho insegnato per tanti anni in vari tipi di scuole, anche scuole statali, e quindi sono contento di visitare le scuole, quindi ringrazio il Preside per avermi invitato. Ecco, mi pare importante questa scuola che attua dei progetti che favoriscono l'alleanza educativa fra famiglia, scuola, chiesa, istituzioni e quindi anche mezzi di comunicazione sociale e poi che mette al centro anche i ragazzi con disabilità, i quali debbono sentirsi integrati, inclusi all'interno di questa scuola. Ecco, sono molto felice di incontrare i ragazzi, gli alunni di questa scuola, a cui ho mandato un messaggio e so che parecchi di loro mi hanno risposto, ecco, con i loro canti, con le loro danze, con le loro domande, e correndono, ecco, veramente per me questa giornata molto bella e molto felice. Per noi è un momento eccezionale, un giorno di vera gioia, un giorno di scuola e di vera gioia al tempo stesso. Avere la presenza oggi del Vescovo qui a scuola presso l'Istituto Comprensivo Nini Castratti Partinico è una gioia immensa per me, per tutte le persone che in questa scuola lavorano e prestano la loro opera professionale e anche per tutti i ragazzi, i bambini dell'infanzia, della primaria e adesso i ragazzi alla scuola media, perché abbiamo diviso in due momenti l'incontro, visto il numero dei nostri alunni, abbiamo diviso in due momenti l'incontro del Vescovo con la scuola resca. Pertanto il primo momento è già stato fatto con i bambini della scuola dell'infanzia, alla scuola primaria, al plesso casa del fanciullo. Adesso c'è il secondo momento con i ragazzi più grandi della scuola media, un momento, ripeto, di gioia e di contentezza per noi. Ho l'impressione che i vostri alunni abbiano nel Vescovo un punto di riferimento e poi questo è un modo per avvicinarli più alla Chiesa. Certamente sì, tra l'altro stiamo vivendo in un momento sociale storico particolarmente importante e delicato al tempo stesso e allora la presenza a scuola del Vescovo ci dà maggiore opportunità e stimoli per fare comprendere nella maniera opportuna cosa significa integrazione. Partiamo dal messaggio del Papa per quest'anno 2015, quindi in cui si parla di togliere le catene che legano dalla schiavitù, soprattutto per quanto riguarda i minori, gli infanti, e per questo noi abbiamo voluto, abbiamo chiesto con forza la partecipazione del Vescovo Penisi qui a scuola. La sua presenza qui a scuola, a contatto diretto con gli alunni, permette di dare a questi alunni una percezione reale, diretta, in questo caso del patrimonio che la Chiesa può trasmettere e può dare a tutta la comunità. Non è un caso che questa scuola si sia configurata negli anni, anche quest'anno, per un'attenzione nei confronti, e ringrazio delle parole che ha detto il Vescovo, nei confronti delle famiglie, degli alunni e delle famiglie, e anche delle famiglie che vivono la situazione di disabilità a casa. Quindi, ripeto, non è un caso che il provveditore agli studi a ottobre, il Vescovo oggi, siano presenti qua in questa scuola. Testimoniano la qualità dell'offerta formativa che questa istituzione cerca di dare a tutti, senza dimenticare nessuno.